WAHEKUJ! Ben ritrovato a dire al vostro Andronycronut1 su WarioWareGold! Continua il nostro viaggio attraverso i minigiochi della storia! E oggi ci tocca LegaGiraTutto, Ashley e Red! Ecco, Ocus Pocus, iniziamo subito senza indugiare oltre! Siamo a casa di Ashley Magioni! Non è una casa da Magioni! C'è sempre... Eh... Quindi, che dobbiamo fare ora? Questo sicuramente si arrabbia e dobbiamo rispedirlo nell'oltre tomba! Ah! Ha dei minigiochi per noi! E quindi vuole mangiare noi? Dal nome posso già capire! Se decide di mangiare il tuo cibo, il conte se lo mangia e non ci puoi fare niente! Sono giorni che questa povera creatura è a digiungo! Cosa era? Va bene, ti aiuto! Ma sei pazza? Non vorrei mica metterti contro il conte Vorax? E perché no? Non se ne parla proprio! È cattivissimo! È forse... Sputa fuoco! Va! E va bene, come vuoi tu! Red, trasformati in scopa! Agli ordini! Non ti preoccupare! Vado a sconfiggere il conte Vorax e torno! Tu aspettaci qui, intesi? Tornate presto, eh? Ma allora sai parlare! Ma allora, scusate, cosa diceva con i ruggiti? C'è di peggio! Eh, immagino, Ashi, che c'è di peggio! Fai progresso! C'era da premere A o c'era da premere? Interessante, però, questi minigiochi dove bisogna girare, eh? Cos'è? Ha diventato buono? È diventato? Oppure è diventato uno spiritello? Vuoto! Uno! Ok La terra è diventato un posto migliore ora Una mela È troppo per te L'abbiamo pelato come una mela Pelata Per un pelo Vado! Quello era un procione La miseria Vabbè a capire dove girare Non è facile a capire dove girare, eh? Yeeeh Cos'è? Gli alieni arrivano sulla terra! E allora esistono? Dai, Ashley, su Dammi una vera sfida Gli angeli polpin si capisce che rob'è Ahahahah Perché? Una maledizione Eh già, esatto, una maledizione Non c'è più da corre Ci lo giravo Dove andare a finire Ah, il boss ora Ecco qua Il re vorax Sembrava troppo infatti facile, no? Ok Oh, attenzione Questa che torna indietro Ah, accidenti Ok Da dove ora? Va bene Quante Struzzi Oh, che cosa sono? Ok, questo era l'ultimo Siamo sicuri? Io non mi fido E invece sì Ok Mamma mia Ti fa stare quel fiato sospeso Eccoci qua Al conte Vorax è passato l'appetito Non è più cattivo Guarda un po' tu Sì, esatto Puoi dirla forte Ma sa parlare Perché? Niente male Andralink Comunque penso che Il dottor Krygor Ti stia aspettando Oh, Krygor Ecco come si chiamava il dottore Il dottor Krygor È È strano il dottore, eh Vabbè, però Dammi lì alla fine della Lega, no? Tutti quanti firmati Sport Ok Ma Ora sta Agatha Trovato Ma, ex, hai tu? Sei venuto a cercarmi? Sì, Krygor Eri in pensiero per me? Sì, Krygor Oh, che cosa farei mai senza di te? Ti meriti un abbraccio forte Percepisco pericolo Dobbiamo andare Pericolo Questa foresta È infestata da un fantasma Dicono che Se ti vede Ti insegue E poi ti picchia Ti insegue E poi ti picchia Che cos'è? Ciao Come va? Una roba colp? Che cosa ci fai qui? Sono stata abbandonata Il mio creatore diceva che ero programmata male Poverina Non gli piaceva come pulivo? Ma è terribile Quindi tu non ricordi Io sono Il tuo vecchio Robata delle polizie Quello è fantasma? Adesso ti insegue Ecco Ma che succede? Resto qui Ok Resto qui Nel caso Ok Ma si Le musichette Ah quanto è bello Qua riguardo Ah uno dei due Mi sa che devo essere Forse Yeah Ottimo Si vabbè però Oh yeah Ha una rotazione del busto Che fa paura Ma del torso Più che altro Ah questo me lo ricordavo Però in maniera diversa Ok Vodo Capisco Valle Ah Ronaldo Che combini Ronaldo Yeah Che mani Più veloce Sono pronto Yeah Ma sbaglio il tank La bandana Perché su da mangiare Stavo già Stavo già Girando Meno male Non hai coraggio Di vedere Manco io Sinceramente Continuiamo Accidenti Ok È infinito Vai volando Ci arriviamo E questo era Questo era quanto Alcuni sono semplici Altri non capisci Quello che devi fare Menomale Così non verrai picchiato Siamo al laboratorio Ah è tornata Bene a portarla qui Beh ho aggiornato il suo software Ora dovrebbe funzionare Quindi da oggi Il laboratorio Sarà più pulito Grazie a voi Adesso Sono programmata Per Far fare Le pulizie Va sempre male Oh no Sei nel trambusto Ho perso tutti i funghi Mike Non ci pensare nemmeno Eh Congratulazioni Gli esperimenti falliti Sono un'ottima occasione Per imparare Andre Link Adesso tocca 18 volte È il fratello Se no È uno Il doppio è fratello No Ehi Ok Andiamo avanti Continuiamo con Oh Torniamo dalla bimba Di battere Wario Devo diventare Forte forte Ehi hai fame Cagnolino Sì forte Non cicciona Sono piena Alla fine Dobbiamo Quello è il boss finale No non è NINTENDO Oh Via Via Ma questo sì Ma non ricordo Sto tipo Eh fratello Di 9 volte Allora Non si fa Sono 13 Amp La regina del rap Yo Yo Spilungone Che problema c'è Me li mangio a colazione Tipi grossi come te Ho io il suo giochino E se indietro lo riguai Al rap devi battermi una gara Tra di noi Vado verso casa Vedo un bimbo disperato Altro che regina Tu l'hai proprio derubato Oh Crederà migliore Ma ancora non lo sa Che ora ha di fronte Il vero re del rap Oh Come gliel'ha droppata Wow Ragazza Non c'è sfida Non c'è sfida Sei out al primo scratch Ne resterai basita Bene caro DJ Metti su le basi Preparati che arriva Una rabbica di frasi Yo Ah ma nove volte fa il DJ Oh allora Gioca Nintendo gira tutto Sono un po' preoccupato Sono un po' preoccupato Davvero Eh ragazzina Perderai No schiantarti Oddio che paura Bello però questo Deve essere interessante Potrei recuperarlo Sicuramente Se lo trovo A un prezzo umano È ovvio Yeah yeah Oh Quanto amo sto gioco Certo Super Mario 64 È un'altra cosa Però anche Sunshine È bello Ah devo solo prendere quelli Anche io lo stesso Lo stesso telecomando rosso Sono sbagliato Ma dai No ragazzina sta recuperando Che facciamo Afferra la blu Yeah Rob Oh L'Islet War Yeah Oh Uh pesce palla Molto velenoso Dai ragazzi Oh il boss Attenzione Sconfiggiamo La suon di rap Non ci credo Da paura Bellissimo Per fortuna Ho capito Che per superare il buco Dovevo ruotare Più 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 a destra Meno male Se non cascavo malissimo Yeah Hai capito Bimba Grazie Ce l'hai fatta Stavolta Stavolta mi hai battuto Ma devi darmi la rivincita A quale scuola superiore vai Sto in quarta elementare C'ho nove anni Se vuoi la rivincita Passa da scuola E chiedi di me C'ho nove anni Tu vici per le superiori no Assurdo Hai battuto i miei giochi Sei troppo forte Adesso lascio il palco A Penny Penny Pennywise No Vediamo un po' Penny Penny Fai del tuo meglio Oddio L'ho già vista sta Penny Io Dove l'ho già vista Da qualche parte Una nuova invenzione Penny Il mio capolavoro Nonno Sono riuscita a creare L'idea rugola d'oro Ma che colore ha Ne basta un sorso Per avere una voce incantevole Si beve Beh tu che dici A meno che non vuoi Iniettartelo nelle vene Ma sai benissimo Che la scienza Non serve a questo E a cosa allora Forza Ma se è veleno Penny aiuto Ma che cosa sta succedendo La mia voce Funziona Adesso hai una voce meravigliosa Oh ma che brava la mia nipotina Certo il sapore è migliorabile E maleficazio E assicurato No no Ti fa male la pancia Oh no Ma non preoccuparti Ho io quello che ci serve Ah si No 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 Non bere altro Ok Allora funziona Troppo bello Ah che carino Ok tagliato Bene bene Al pelo eh Questo sapete dove era Su WarioWare Minigames Party Forse Il primo per GBA Comunque sia Ah ok Fatto Così E Non l'ho mai giocato Perché ci voleva anche Un adattatore Per Per appunto Per No dai Un adattatore Per far girare la console Il gatto è lì pure Che ti guarda Mamma mia Che cos'è Farò orecchie Ah Devo girarlo Ok Ho capito E beh Giustamente Non ci voleva Da l'ultimo E vabbè Cos'era Cos'era Uff Sushi Dai ma Ma dai Ma no No Continuiamo Dai Per cento monete Beh Meno male Meno male Sushi Salmone Ma Dovevo versare per terra Vabbè dai Il boss Dirigi Ok Ok ho capito Ho capito Come funziona Quelli che devono fare i pipì E quelli che devono fare cacca Ah perfetto A primo tentativo Ottimo Il primo a caso L'ho fatto Il primo Sicuramente è andato bene Il primo proprio a caso L'ho fatto Perché non l'avevo capito Dopo al secondo Ma aspetta Forse C'è un metodo Tanto per iniziare E quando svaniscono Gli effetti sulla voce Che c'è Non svaniscono Sei proprio in gamba Andrelink Insomma Hai completato la lega Gira tutto Mi piacerebbe un sacco Studiare la tua tecnica E beh Va bene Va bene E filmato Penny Beh Allora Direi che possiamo anche Concludere qui Questo episodio Scommetto che metà dei partecipanti Si è già ritirata Ma non io Io sono Forte Deve essere un sogno No Wario La realtà Torna a dormire Capito Un sogno Torna a dormire allora Penny E ce l'abbiamo fatta Anche questo Episodio Può concludersi Qui Come sempre Vi ringrazio Per aver seguito Anche questo video Di WarioWare Gold Nel prossimo Completerò Tutti quanti I livelli rimasti Così insomma Diamo una conclusione A questa serie Non so se la concluderò Con il prossimo video Oppure se farò Tutti i mini giochi Non ne ho la minima idea Anche perché WarioWare È una serie Che mi piace Davvero un sacco Come ho detto Li ho giocati Quasi tutti Quindi questo Era assolutamente Un must Da portare sul canale Io come sempre Vi ricordo In descrizione I link per Twitter E Instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre domani Con un nuovo video Bye bye Ciao 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 Ciao